chi c'ha detto che faccia questa cosa chissi? ma? siamo nei nuovi trovati lo cerchiamo ok però siamo bene perchè hanno servito il pesce quindi sono la casa siamo in perfettura giustamente siamo più leggeri ma lì non ci hanno aspettato non ti daremo non dico 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 ora non dico non dico cosa dico non dico cosa dico dico la dedica mia ripresa allora stiamo andando a fare delle foto con gli sposi con Marco e Pasquale dietro al cofano perchè gli sposi stanno avanti con noi vedete ci rendiamo conto noi ci mettiamo conto Noi ci mettiamo i denti Angelo sta comodo Angelo sta comodo La scusa sta comodo e Nicola sta comodo Noi su noi qui A Chiari ti evitiamo Già vedi che ora mi vengono di mangiare